e ciao a tutti ed ecco in questo nuovissimo video di minecraft questo è la friendscraft questo è il quarto episodio della serie siamo qui in compagnia di ivan ciao oggi siamo soli soletti appunto perché gli altri non avevano tempo e indovinate manca proprio sarà che aveva tutto il ferro e io sto morendo di cibo ma se te lo dai un casino sì ma non avevo mangiato poi ho ucciso una strega mi ha dato una bottiglietta un fiore era per terra ma ok e diceva di non fare cose offline eh sì ero non scavarmi sotto i piedi ero per caso fuori ho visto una strega l'ho ucciso e qui è dimenticato due blocchi aspettate qui c'è puzza che qualcuno non l'ha lasciato un like lasciate il like cattivi e poi quello la che si mangia il panino davanti al video ma che ne so che cavolo stai scrivendo io niente perchè capito 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 bene 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 allora io sto correndo su giù qua come un deficiente allora adesso seriamente cosa facciamo io sto veramente stare migliorando casa le pareti facciamo di cosa facciamo di quello che vediamo come viene si sempre di questo no spi un'altra cosa va bene comunque ti ricordo che me l'hai consigliato tu di fare così sì 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 quello che ho detto io sono adesso si sente scarpe tutto il tempo che mi stavano scrivendo io anche rispondo ma va bene 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 ok allora volevo vedere come viene sta cosa mmm è venuto bene il pavimento però dovremmo prenderne di più prendi il piccone e scava dimmi che dici di fare la parete così ok aspetto venendo oh ho un'idea sai come la potremmo fare la parete che dici così avevi già capito la mia idea ok vogliamo fare con lo stesso material però quello grigio scava 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 poi dovremmo fare anche un qualche episodio in miniera perché noi stiamo facendo tutto il tempo solo a casa 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 nella serie hardcore che la sto facendo col matteo abbiamo fatto quello abbiamo fatto solo a casa poi siamo andati sì abbiamo fatto anche il caverno no ma in tutte le serie che sto facendo ma ecco faccio case 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 e ho letto pure un commento non dico il nome che ti ha chiesto e che un po fan diciamo così ti ha chiesto bravo mv fai case 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 continua così case 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 se me la ricordo giusto hai torcia una che dovrei mettere a casa perché l'ho tolta per il pavimento mettila qua e a casa mettiamo un'altra no possiamo pure craftare sì 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 c'era una torcia nella cesta comunque o non lo sapevo perché non ho aperto la cesta quando abbiamo visto l'episodio grazie comunque ho 17 torcia e direi che ecco quella bianca che mi serviva se vieni nel mio mondo che sto facendo con il mio amico oggi ho messato sai quanto racconto di questo materiale perciò oggi carichi due video io no oggi non hai capito la mia serie privata privata senza registrare ah perciò una serie senza registrare ragazzi ma questo ragazzo davvero un senso nella sua vita cosa ho detto non lo so nemmeno io che è finito il piccone poverino io sento tutto si sente fino a qua ma te non usi la semiserie piccone poverino la paletta ma noi stiamo scavando quando questo ne abbiamo quasi uno stacking nella cesta comunque ma quello lì sono i dettagli perché non mi aiuti che mi sto rompendo le ossa le dita schiacciando il mouse mille volte una domanda cosa sta succedendo a casa tua niente ho aperto solo una porta non è una cosa brutta però si è sentito la porta sai è certo che si è sentita doveva aprirla perché c'era caldo cioè stavo morendo dal caldo non si può aprire la porta perché uno sente caldo sì ma si è sentito sai come che l'hai aperta mh vabbè devo fare un piccone tanti picconi perché mi serve io ce n'ho uno però lo sto usando comunque abbiamo anche qua proprio in casa abbiamo questo materiale se non l'hai notato dimmi se ti serve il materiale con cui dovremmo fare il muro perché ce n'ho un po venti cioè io ce n'ho due stack allora visto che non sono tanto aggiornato della nuovo anzi lo sono tantissimo io adesso si possono fare le scale di andesite magari sì no non si possono fare ma non ha senso si possono fare di legno di pietrisca non si possono fare di quello ah allora farò una cosa intelligente sto facendo sto cuocendo il pietrisco così lo faccio in pietra così faccio quel materiale che non mi ha ah sì i brick desti mattoni di pietra qua avevo messo un blocco sbagliato toglielo dove? secondo te? là nell'angolo guarda qua dietro quanto ce n'è sentimi che ti resti dove che non sto capendo un cavolo qua ah lì io che guardavo da un'altra parte oh scava questa fossa qua non posso scavare sto facendo le scale e devo pure fare il pallone Ah, finalmente posso fare... Alla prossima C'è un po' di silenzio Speriamo che non è troppo noioso il video con così tanto silenzio Infatti dovremmo parlare perché non parli E perché te non parli? Perché te non parli? Io non parlo perché non ho un cazzo di dire Semplicemente E nemmeno io allora Come sta avvenendo il pallone? Che non significa nulla Io non vuoi vedere una cosa? Non lo so Senti qua dentro no? Sì Hai questo materiale per i muri Più avanti è questo bianco Qua sopra è questo rosso E qua è ancora bianco Figo? Solo entri in questa porta e vai a scavare questo Figo? Non ha senso Non ha senso però va bene Qua c'è il carbone Non lo prenderò male Sì Sì Evan È arrivato il postino Non l'ho visto arrivare Sì ma è arrivato Ah ok Hai fatto entrare il postino Non essere così generoso Aspetta C'era pure un altro di postino 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 se ne andai il postino perché sbaglio sempre? non lo so ok è venuto bene ma lo dovrò continuare ma che cavolo era? rigo sto pavimento io vado a fare qualcos'altro prendo un po' di legna e faccio così per caso hai ghiaia? ghiaia mi serve solamente se c'è nella cesta nella cesta non c'è ma mi vado a cercare la ghiaia il postino è entrato dall'altra parte ormai è arrivato perché ho ucciso? ok scusate il taglio ma c'era gente che è arrivata allora io sto facendo qua io prendo legno per fare una cosa più non mi dico ancora cosa non mi dico ancora cosa nemmeno M.V. sa cosa solo io la ho e mi serve ancora sta ghiaia cioè ma la devo ricavare io la ghiaia o me la cerchi tu? grazie io direi che te la cerchi da solo grazie sei veramente tu condividi le cose che mi servono ok l'entrata l'ho fatta un po' di merda ma poi la sistemo e mi porteresti una pala di che materiale facciamo il soffitto? di che materiale facciamo il soffitto? non lo so lo facciamo di mattone si si può fare ma quali i mattoni? i stone brick o i mattoni quelli la mattoni? i stone brick si ok ma mi porteresti una pala? anzi due dove si trova comunque? davanti a te mi servono due pala due cosa? due pale ah ho capito un'altra cosa comunque dove stai? non ti vedo va bene le grafto io ho capito io ti vedo in lontananza ti sto stalkerando ah ok ora ti vedo si comunque ormai se stai arrivando tardi perché me ne sto craftando io c'è un postino in casa c'è un postino in casa eh va bene uccidilo il postino c'è un altro un altro postino ah nello scorso episodio ne ho capito dei tre io mi faresti un favore? quale favore? ok allora cosa stavo già facendo? ah si ah ti stavo dicendo si mi puoi fare un favore? quale? per le mie orecchie si uguale abbassa i volumi di minecraft va bene fatto l'ho abbassato di metà comunque intanto io ho preso la ghiaia dimmi che te ne pare di così va bene intanto io faccio una cosa figa che dovevo fare da prima che non è male ma mi sembra quasi troppo grigio guarda che ne dice fai tu fai tu una bella sera mi sembra un po' troppo grigio e se lo facciamo bianco non levigato per esempio che prova come viene oppure levigato non lo so mi fai un po' di lastre di legno mi serve non ho legno allora non le faccio io perché voglio fare una cosa un po' figa vediamo come viene se facciamo così ah me ne sono fatte 60 dimmi di questi tre qua quale facciamo come soffitto ora vanno trovando io direi questo bianco normale questo qua così per staccare un po' io direi questo i mattoni mi sembra quasi troppo grigio facciamo decidere nei commenti vabbè ditoci nei commenti quale facciamo questo mi sembra troppo grigio poi io pensavo questo per non fare uguale come il pavimento ditoci nei commenti vabbè intanto io ancora costruisco la mia perfezione la mia bellissima vediamo intanto io piaccio un po' di queste e cosa sarebbe questa stradina? ah si porta in un posto che non ti dico perché è una soffessa dall'altra parte della montagna no qua no poi te lo dico ma è già vero credo che so dove vai ma non sono al 100% ma vabbè lasciamo stare ho spiegato mezzo stack di anzi uno stack di legno e 15 per fare sta cosa vabbè poi noi prenderemo un altro un po' di queste me è finito il piccone hai legna? non mi serve no l'ho finita tutta grazie no l'ho trovato un po' di legna in un cesto ok scusate il taglio ma si m'era ripeto di nuovo il disco vabbè allora non mi serve Ok. Così. Qua. Sì, aveva ragione, volevi portare qua. Non sta parlando solo? Sto parlando con te. Ok. Dicevo che aveva ragione che la volevi portare qua. Sì, ma la sto portando nel bioma dell'acacia. E devo togliere questi alberi che non mi fanno passare. Non è male che avevo l'altro palo. Ah, si deve fare notte proprio ora. S. Per fortuna io sto in casa. Perché tu non fai niente? Non stai mica lavorando. Io mi sto grattando il culo. Semplicemente. Secondo te cosa sto facendo? Stai facendo il tetto? No. E allora non lo so. E non lo voglio sapere perché mi cerca giocare indovina indovina. E allora non lo so. Salve signor scheletro. Il postino dov'è? Ma è l'anno sui scherzi. Ok. Nooo, i zombi piccolini! Zombino, ciao! Oh! Due! Due! Non posso sopravvivere a due zombi piccoli piccolini che corrono velocemente nelle mie strade! Mega! Fuori giorno o notte? Oh, notte! E io mi sto rompendo il bellissimo sedere per fare una strada e per portare in un posto bellissimo che non so ancora dove si porterà la strada. Certo, me lo so. Però, sti scheletri se ne devono andare, perché non posso rompermi? Ma, pure il postino, il postino! La casa è lì, non qui! Ma, lana! Il letto non ce l'abbiamo, gara? No, non ce l'abbiamo. Lana? Non lo so. No, non ne abbiamo. Questo è un problema. Nooo, è pieno di bei mosticciattoli. Nooo, Creeper, Creeper, non rovinare la mia bella statina, statina, statina! Ma, la mia povera statina. Ma, la mia povera statina. Ma, la mia povera statina. la carne non cura, grazie. La carne non cura, grazie. La carne non cura, però, la madre non cura, senza per farlo. La carne non cura. La carne non cura, grazie. La carne non cura, grazie. La carne non cura. Ah, pure i zombie si mettono. Ma che stai facendo? Dove ti trovi? Devi seguire la stradina, ti ho detto. Segui quella lì dentro casa, segui quella cosa e c'è una stradina. Segui la e che ti porta da me. Ecco, dammi la giocale. Guarda che sono qui, non mi hai visto? Ti avevo detto due! Non sai che non ho più spazio? Hai spiegato? E tu è scemo! Ora tu vai, le pigli e le riporti a casa. Mouche, mouche, vattene. Ogni due secondi mi dici due pale, due pale, due pale. Cavolo. Ne volevo due, non cento. Beh, dovresti seguire la stradina per andare a casa, non voglio dirselo. Hai il culo, hai il culo. Hai il culo. Che? I scheletricchini mi stanno attaccare ammazzando sul culo. Hai il culo, non evita. Ora vengo. Ma perché non te ne vedi a casa? Ma nemmeno ti vedo, che ti può aiutare? Dove cavolo sei finito? Ritorna a casa. Sì, ritorna a casa. Ci sono le guardie. Davanti a casa. Come le guardie? C'erano 350 zombie all'entrata di casa? Tu vacci, se ne saranno andati. Poi comunque sta avvenendo il giorno, perciò puoi venire. Io invece che ho cinque zombie davanti. Non è problema mio. E nemmeno il tuo è un problema mio allora. Che cavolo? Ma sta allargando a pezzi, ma ammazzano questi qua. No, ma quanti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sono sette zombie che mi inseguono. Non riesco a camminare, non riesco a camminare. Canne di zombie, aiutami tu. Perchè non c'è chi l'allero nel blagueino? Vero, non ho messo il craft bucket. Aia, aiutami, aiutami. È nè vù, è nè vù? Tissai, 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 tissai. Tissai, nè vù. aiuto 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 ho un cuore non c'è un comando nemmeno uno vieni a casa cosa vieni a casa devo fare la mia il mio amato la mia amata costruzione costruzione cioè la farm perché devo venire ce l'ho fatta li ho uccisi sono un pro della morte no no non c'entra il giorno così non c'è bisogno ma perché devo venire e il giorno non serve e allora se il giorno cosa c'è niente mi è finito il piccone mi è finito il piccone ho fatto 300 piccone e va ma sei scecco poi quando guardo il video dove è quante cavolo di pare hai fatto dicevi niente guardate se mi finisce il piccone pure a me ce è il pus tine intrat in casa e va bene non c'è 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 Ma che vuol dire? Che vuol dire metti un po' di olio sulla porta? Così non scrivo la ricetta? Non ci posso fare nulla. Comunque abbiamo la ciaspiera. Va bene, allora fanno una nuova. Hai legno? Sì, vieni da me che ce lo do. Hai cibo? Ho carne marcia. Io sto marciando, anzi ora ho carne di pegola cruda. Perché sto ammazzando pegola e così ci facciamo sti cavolo di tetto. Ammazzo pure i maiali. Poi cuociamo la carne e siamo tutti felici e confetti. Ah, non ho più spazio. Cosa butti? Vieni a casa e svuotati. Ok, mi sono un po' svuotato. Ah, ok. Fame, 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 fame. Senti, sono un po' lontano da dove ero prima. E c'è non mi troverai. Perché c'è una pegola sopra un albero? C'erano due pecore sopra un albero. Non ha senso queste cose. Qui da me c'è un po' di buio. Qui da me c'è un po' di buio. Mi servono due pezzi di rana e siamo a posto. Per fare ovviamente i due letti, poi ne dovremmo fare altri. Maddana, quante pecore! Tante pecore, tanto cibo. E vuol dire pure tanti letti. E va bene, faremo altri. Quanti ne hai fatti? Quanti ne hai fatti? Non sai che ho perso casa? Non è problema mio. Sì, ho la legge. MW. Dimmi. Pukit c'è facendo. È una cosa molto figa. E sono caduto la 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 la. Tu non ne hai fattile. Ne hai fatti due, non ne hai fatti cinque. Lo so. E tu avevi detto che ne avevi fatti cinque. Vabbè. Che è un ricido il tetto così figo? Aspetta che faccio l'ultimo letto. Madonna, quanto ce n'ho qua. Vieni qua da me. Aspetta. Vieni per la stradina di Lenny che l'hai fatta. Non dovevano decidere loro per il tetto. Ma è figo. Ecco. Vieni qua. Lo sai che questo l'ho scavato io? Guarda quanto ce n'è qua. Eh, l'ho scavato io, grazie. Ah. E che ne sapevo io? Eh, non lo so. Mi è finito il piccone, la la la. Io metto a cuocere un po' di cose, la la la. Allora. M. V. Diani. Cosa? Ti ho dato dietro la carne. Grazie. Quella che l'ho messa a cuocere, vero? Sì. Ma adesso sto mettendo altro. Bravo bambino. Eh, sono un cuoco, eh. Non... Sono un cuoco professionista. Non parlate di me perché sono un cuoco. Io mi faccio una zappa. Per caso abbiamo i semi? Dei semi. Sì, sì. A voglia. Mey. Quanti ce ne andiamo? Quanti ce ne andiamo? Quanti ce ne abbiamo? Per caso, allora... Ehm. Quando siamo andati nel villaggio abbiamo preso patate e carote. Dove cavolo sono finiti? E neanche sette morti? E cioè li abbiamo persi? Secondo me. Li abbiamo persi. Non so, guarda nella cesta c'è. No, non c'è nulla. Io in quel villaggio non ci rivado. Perché no? Non ci andrò mai più in quel villaggio. Ah, Ivan. Eh? Il tuo buco che l'ha scavato, te l'ho sottato. Me l'hai? Non c'è più... L'ha scavato in terra, non c'è più materiale. Intanto, sai la farmola che ho fatto? È esplosa! È esploda che cosa ha übrigens? Noi... Ma... Perché hanno aggiunto i gripperi? Minecraft? Già bastano gli zombie e gli scheletri! Ai ragni magari! No! No 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 no! Cosa? Quanti caspi ci ne sono? ho trovato un'altra miniera di quello bianco madonna, mezzo cuore oh vieni che ti do l'altro cibo che ho messo a cuocere allora, tieni questo e tieni questo aspetta che te lo do tieni dove l'hai messo? ti ho dato il cibo? ah si, ce l'ho madonna, sto creeper deve morire ma devo pure prendere un bel po' di terra perché quel creeper mi ha tolto tutto divano ti serve una torcia? si, si, a voi ce l'ho uno stack non darmelo tutto, dammene... dammene 32 dammi mezzo stack, dammi mezzo stack vai alla farma di grano tu non sai di quanto bianco io ho trovato la diorite si, la diorite che ne dici se nel prossimo episodio facciamo in caverna? andiamo in caverna va bene a scavare a scavare cinque stack di diamanti cinque stack di diamanti te lo scordi? era giusto per dire così mi ha finito il piccolo e la 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 sto per essere ammazzato da una strega la 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 ma perché mi imiti? perché è ziga no, no, mezzo cuore ma ancora questo mezzo cuore io mi chiudo addio vi ho voluto bene ma oh però un'armatura ce la dobbiamo fare se no moriamo sempre uccidi un po' di mucche e fattela non ho un piccone io mi sono rinchiuso qua con la robleston ma sono ingegno Ivan ho fatto 4 stack 39 di diorite va bene no, no, creeper creeper Ivan posso dire una cosa? cosa? non è successo niente infatti non ho sentito un rire zombie maledetto mi hai rovinato la farm non la pagherai cara comunque mi devi portare le dolce grazie io sto lavorando comunque e va bene vengono e me lo dai comunque non è successo niente infatti non ho sentito io sto rinno io sto rinno io sto rinno io sto rinno ciao Ivan Ivan io sto rinno Ivan io ti vedo io sto rinno ora mi devi dare la ghiaia se non ti ammazzo guarda muori non so come io non ce ne ho ma se la trovo e te la raccolgo guarda sei salvo ma per ora ti serve o no le docce dammene poi non mi dare niente ti odio guarda mi ha rovinato la cosa più bella che io abbia mai fatto in micro non forse non è vero ho fatto cose migliori va bene ho cinque stack e 29 di diorite non me ne frega della dionite me ne frega della mia italiana piccolo piccolo non la rivedrò mai più la mia italiana una strega mi ha addolpato un po di gestione non me ne frega della strega ma perché hai lasciato della montagna della crafting non lo so perché io ho trovato della lava comunque davanti al caso c'è un postino piccolo si sta chiudendo server tra dieci minuti cerchiamo di fare presto se intanto noi siamo già 40 minuti di video veramente allo sto video carica non so quando e se lo tagliamo in due parti e va bene caricherà dopo tre anni se faccio una parte due parti ci metto lo stesso tempo a caricarla più o meno non c'è una grande differenza eh sì ma allora quando caricherà questo video prima di dopo domani sicuramente no forse tra tre giorni circa potevamo fermarci 20 minuti anche se registravamo 20 minuti mi serviva tipo un tre giorni comunque comunque fai vedere la mia farm di grano e poi concludiamo il video dove ti trovi comunque alla farm di grano e dove si trova nella stradina io sono quasi morto comunque c'ho due cuore c'ho due cuore non me ne frega ma io ti avevo detto di darmi 32 pezzi di torce me li dai e le ho consumate va bene va bene che cazzo fai comunque dove si trova ti ho detto di proseguire per la stradina ah eccola figo non concludere devo arrivare anche io poi la farò io la farmo come si deve più avanti no 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 questa qua resta poi la miglioriamo però la miglioro io perchè sono io il creatore di questa farm io sono l'unico creatore di questa farm no allora la creo una mia perchè tu non crei quella degli animali tipo una stalla che è una stalla mucche maiali polli figo ma no 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 perchè adesso dobbiamo chiudere il video no 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 Questa è la seconda volta che mi rovina qualcosa. Ah, sta cosa l'ho messa io perché avevo mezzo cuore e mi sono rinchiuso. Togliela perché fa cagare. Ora vieni e concludiamo con la mia farm davanti. Hai visto quanto ho fatto io in casa? Sì. E anche io ho fatto un po', dai. Guardami e concludiamo così. Devi metterti libero davanti a me. Vai. 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 Eh, vai. Diciamo sta fine che si conclude il video con gli occhi rossi. È da mezz'ora che sto davanti al pc. Guarda, chiudo. Allora, tra un minuto, non so quanto, si chiude il server. Vorresti finire? Ah, pensavo che la volevi fare te. No, falla tu. Falla tu, non me lo prega. La fai tu. Comunque ho 60 fps, vabbè, quasi. Eh, vai. Allora, siccome devo fare io la fine, ma che lascio la storia. Allora, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi per essere aggiornati ai nuovi video che usciranno, così saprete quando esce, perché vi viene la notifica. E, che dire, commentate per dirci qualche vostra opinione, per dirci il soffitto di che materiale fare. Io direi di fare di orite normale. Bene, te, Ivan, hai qualcosa da dire o no? Niente più. Un semplice ciao quando finirei tutto quello che devi dire tu. Bene, bene. Bene, allora, per questo vi vedo tutto. Noi ci becamo nella prossima e ciao ciao. Ciao.